allora ben trovati a tutti stavo dicendo che non è pericoloso non vi preoccupate è solamente una camera a 360 gradi vediamo se riesco a far funzionare questa presentazione va ok allora ragazzi iniziamo con un disclaimer prima di tutto voglio dire una cosa io non vengo dal mondo della radio l'unico contatto che ho con la radio è che un podcast giornaliero che si ama strategia digitale che parla di come utilizzare il digital a supporto del business quindi il mio lavoro come consulente è aiutare qualsiasi business dal personal chef specializzato in gluten free fino alla grossa agenzia che fa ufficio stampa per i grandi brand a utilizzare il digital in tutti i suoi aspetti faccio un disclaimer all'inizio nel senso che ho chiamato questo intervento digital viagra non tanto perché distribuiremo pillole blu in sul pubblico ma perché nella mia visione per quello che ho sperimentato aiutando centinaia di persone a utilizzare i social media in maniera ragionata ho visto che c'è una grande confusione su come i social media possono realmente aiutare il mio business e erroneamente vengono c'è quest'idea del boost chi di voi ha mai fatto una pubblicità su facebook alzi la mano ok chi di voi ha mai pubblicato un post su una pagina pubblica su facebook una pagina aziendale alzi la mano ok avete visto che quando pubblicate un post dopo un po facebook vi fa cicciare fuori un messaggino ho scritto questo post sta performando meglio dell'ottanta per cento dei tuoi post precedenti vedo delle teste che annuiscono e questa è esattamente l'idea di marketing contraria a quello che vi dirò oggi cioè l'idea che tu estemporaneamente un giorno metti lì 5 euro e magicamente facebook dovrebbe aumentare la tua visibilità farti fare del business non lo so è un po' questa cosa sta al fare veramente marketing un po come sta il video poker sta al fare i soldi cioè chi di noi pensa di poter diventare ricco andando a giocare al video poker a mettere la monetina penso nessuno allora vediamo un attimo se tic andiamo avanti ok davanti al ai social media ci sono due tipi di persone ci sono quelli ho chiamato social fighetti senza nessuna volontà di di offendere anche perché forse sono anch'io un po social fighetto cioè quelli che testano tutti i social appena escono quindi io ho la mia radio la mia web radio il mio business è uscito instagram devo andare a creare la palla il profilo su instagram devo avere la pagina su facebook magari ce n'ho addirittura due c'è una come profilo personale una come pagina pubblica e ora va tanto di moda snapchat quindi facciamo pure snapchat vanno un po a disseminare la loro presenza online senza avere una strategia vera e propria e quello che sperimentano alla lunga è il fallimento non so se c'è qualcuno di voi che è presente su tutti i social e ha una solida strategia digitale per ognuno di questi social mi piacerebbe conoscerlo magari ci incontriamo dopo perché sarebbe il primo che incontro nella vita cioè neanche io stesso per quanto presieda tanti social riesco a stare dietro a tutti con una solida strategia la seconda categoria di persone che utilizzano i social sono gli scettici cioè la seconda categoria di persone che hanno dei business e vengono messi davanti all'utilizzo dei social perché dicono ma davvero questi social media mi devono fare la differenza nel mio business cioè ma lo so io come devo portare avanti il mio business uè Gaudiano lei ci vuole insegnare a usare i social media io il business lo faccio da anni e hanno ragione in parte perché per utilizzare i social media e avere una ricaduta business io devo capire di business non devo capire di social media devo capire di come si porta avanti un'impresa un'azienda un editore non di come di quale pulsante devo premere per mandare il mio post qualcosa è cambiato negli ultimi anni cos'è cambiato anzi no qualcosa direi tutto è cambiato con il digital pensiamo ai contenuti ok fino a una ventina d'anni fa 15 anni fa ma anche dieci cinque anni fa la maggior parte del contenuto veniva fruito attraverso i media tradizionali quindi se io voglio far vedere quanto sono bravo a essere far ridere la gente o finisco in televisione alla radio oppure niente mi attacco al cavolo cosa succede invece con il digital ognuno di noi diventa un credore di contenuti e questo genera una frammentazione enorme dei produttori di contenuti ma genera anche una grandissima opportunità io sono un cretino qualsiasi eppure ho migliaia di persone che ogni giorno ascoltano il mio podcast che lo scaricano ogni puntata come mai avrei avuto accesso io come professionista che si occupa di altro non non di di intrattenere a quel pubblico di persone che poi sono anche i miei clienti no e invece oggi si è cambiato molto secondo me anche dal punto di vista dei proiettori che non mandano avanti tipo eccolo dalla nella possibilità di fruire nella possibilità di fruire i contenuti quanti di voi so che è una domanda intima però ce la possiamo fare quanti di voi hanno mai guardato anche solo cinque minuti di fiction o di film dallo smartphone ok qualche pervertito c'è come me ok io mi sono visto intere serie tutta la serie una di narcos me la sono sparata dallo smartphone che può essere una follia da un certo punto di vista ma dall'altro punto di vista ci porta ci mette davanti se lo accettiamo questo dato così com'è al fatto che le persone oggi fruiscono contenuti da qualsiasi device dal tablet dallo smartphone da dal computer dalla smart tv e direi che anche è cambiato qualcosa dal punto di vista delle conversazioni perché le persone come me e te fino all'altro ieri erano passivi davanti alla frizione di contenuto ma anche passivi in un certo senso davanti alle cose che ti succedono nella vita sono tornavo da berlino e una si possono dire parlacce non lo so una stronza di signorina del dell'air berlin mi ha detto lei non ha pagato per i bagagli dico scusi ma io sono venuto qui con i bagagli evidentemente mi dovrò portare a casa no ora devi pagare il doppio la mia reazione spontanea è stata quella di tirar fuori il telefono fare una foto pubblicare su twitter questa cosa e quelle stesse persone che mi seguono per quello che il mio lavoro hanno a loro volta ricondiviso e chi doveva viaggiare da lì a 15 giorni con air berlin si è preoccupato chi il mio collega di che fa social customer care in inghilterra ha detto dai allora facciamoci un'intervista sopra cioè tutto ha una risonanza noi le cose che ci diciamo abbiamo prima del della le slide c'era l'hashtag no questi hashtag ci permettono le persone conversano quello che a noi tocca di capire come possiamo utilizzare tutte queste cose a favore della nostra attività a favore del nostro business a favore della nostra web radio che facciamo teniamo in un certo senso ignoriamo e facciamo finta di niente mettiamo la testa sotto la sabbia e andiamo avanti così oppure vogliamo approfittare di tutte queste cose secondo me vale la pena di approfittare cioè vale la pena di non far finta di niente perché in fondo ogni media noi tutti siamo media anche le persone fuori ho visto vari ragazzi che blogger video blogger che in qualche modo documentavano questo evento oggi questo festival siamo tutti media e media in fondo quello che interessa quello che gli fa veramente gioco è l'influenza cioè la capacità di avere delle persone che non solo mi ascoltano non posso fare il fighetto con i numeri degli ascolti i numeri degli ascolti mi dicono poco in realtà sono l'unica cosa che posso misurare che è facile da misurare quante persone mi stanno ascoltando come anche quante persone visitano il mio sito web quante persone hanno messo mi piace sulla mia pagina quello si può misurare mi dà sicurezza ma questo dato non va non conta un cazzo quello che conta veramente è quanto io influenzo le persone oggi io dovevo stare qui con un ragazzo che collabora con me abitualmente che mi aiutasse stesse al mio stand mentre stavo qua questo ieri mi ha chiamato e mi ha detto senti sto a palermo a un matrimonio non faccio in tempo a ritornare ho aperto snapchat ho detto ragazzi ho raccontato questa cosa e uno dei miei ascoltatori alessandro che ora sta di là mi ha detto vengo io allora è un ascoltatore è un numero come tutti gli altri o lui in particolare vale più degli altri perché la ho avuto un'influenza tale da potergli chiedere un favore e lui l'ha fatto io non lo conoscevo personalmente non c'erano mai visti allora l'influenza la posso vedere in termini di quantità i numeri come dicevamo che secondo me valgono il tempo che che trovano o posso vederla in termini di qualità cioè quello che le persone che ascoltano la mia web radio quanto sono fomentate quanto sono calde quanto vanno dai loro amici a dire cazzo ma tu non ancora non ascolti ascoltala pure tu quanto diventano miei agenti di marketing volontario questa parola l'engagement che il nostro amico facebook ha tradotto secondo me erroneamente come coinvolgimento se voi andate invece a cercare su google engagement e mettete google immagini vi viene fuori tutte foto di fidanzamento perché l'engagement è questo a che fare con la relazione non a che fare con i numerini o con quanto le persone commentano mettono mi piace molte volte le persone hanno dentro di loro ora voglio farvi una domanda onestamente quante volte vi siete stupiti quanti di voi alzate la mano si sono stupiti del lo scarso numero di commenti che hanno sui loro post delle pagine facebook io mi mi sono sempre stupito ok come mai io pubblico delle figate e questi non dicono niente stanno lì passivi perché perché sono morti perché molte volte l'engagement non si manifesta con un commento non si manifesta con un mi piace non si manifesta con una reaction si manifesta con un interiore coinvolgimento all'interno di una relazione è tutta una questione di leva perché io posso avere tante persone che non gliene frega un cazzo di me posso avere poche persone ultra fomentate allora io voglio dirvi 5 al volo consigli su come utilizzare questi social media per fare questo questo intendevo quando dicevo digital viagra cioè come li utilizzo questi social media per eccitare per portare a un altro livello la temperatura della conversazione sui social media anche senza fare numeri da favola il primo consiglio che vi do è scegliete un solo social media avete profili su tutto non importa sceglietene uno come lo scelgo quello che ti piace di più di panza nel senso quello che ti fa sentire più a tuo agio perché il social media è un luogo allora io non vado dico allora a me piace andare a fare colazione lì però vado dall'altra parte perché mi sembra che c'è più gente no vai dove ti senti più a tuo agio tu come editore come media senti che quel posto ti fa stare a tuo agio scegliene uno solo e punta su quello altrimenti le energie si disperdono il secondo consiglio che ti do è si autentico si autentico cioè non parlare in maniera pompando diciamo tutto quanto dando una patinatura ma si come sei tu racconta la quotidianità questo è il terzo consiglio dell'essere autentici racconta la quotidianità della web radio i problemi che avete, le sfighe che vi capitano, le difficoltà che incontrate come le risolvete le cose che fate sia quelle che hanno attinenza con la radio in sé sia quelle che hanno attinenza con i vostri gusti personali e date valore cioè rendetevi conto che quelle persone che vi seguono attraverso i social media non stanno lì per beccarsi la vostra pubblicità a costo zero delle vostre attività ma stanno lì eppure loro sono delle persone sono delle persone, hanno delle esigenze, delle curiosità cercate di dare valore a queste persone entrando in una relazione vera conoscendo i vostri ascoltatori uno a uno alla fine i social media, e qua è l'ultimo consiglio servono per dialogare cioè servono per semplificare quell'operazione di conversazione da uno a uno che sarebbe impossibile nella realtà ora io, voi siete davanti a me, come faccio a parlare con uno, ognuno di voi? come faccio a ribeccarvi dopo quando non sarete più in questa sala? ecco, i social media servono a questo servono a connettere le persone e consentirvi di semplificare questa gestione ma non sono una bacheca assomigliano più a un caffè che ha una bacheca dove voi pubblicate, pubblicate, pubblicate avete risposto a tutti i messaggi che vi hanno inviato? avete ringraziato per ogni commento che avete ricevuto? siete andati sul profilo personale delle persone sapete, ci si fa clic sul nome di quello che vi ha lasciato il commento o vi ha cliccato mi piace e avete visto chi è, che fa nella vita se ha dei figli, se c'è un cane che cosa mangia, cosa pubblica lui su Facebook perché solo agganciandola a uno a uno queste persone potete trasformarle trasformare i social media in un mezzo per creare la relazione allora concludo dicendo io questa cosa la faccio per esempio a me fa stare molto a mio agio il video quindi utilizzo Snapchat e ogni giorno racconto attraverso Snapchat la mia attività, tra virgolette, radiofonica cioè la creazione del podcast ma anche tante altre cose quindi se andrete a cercarmi su Snapchat per esempio vedrete quando ieri mi sono incollato in taxi lo schermo a 52 pollici che sta sul mio stand la faccia del tassista che si voleva rifiutare tutta la preparazione di questa giornata vi ringrazio